Penne grazie alla rà con carciofi, polvere di lavanda e nocciole. Questa è una ricetta vegetale con effetti speciali di pasta biologica di grano Khorasan. Riduciamo in polvere la lavanda con un macino a spezie. Puliamo il gambo e il cuore del carciofo. Utilizziamo il gambo per la parte cotta e il cuore per quella cruda. Il primo lo tagliamo a cubetti e lo cuociamo in padella con aglio, olio e polvere di lavanda. Mentre il secondo lo tagliamo a giulian sottile e lo copriamo con carta bagnata affinché non annerisca. Gettiamo la pasta in abbondante acqua bollente e salata. Frulliamo parte del sugo di gambia e lavanda per creare una crema. Scoliamo la pasta bene al dente, 3 minuti prima. Mantechiamo nella salsa di gambia e lavanda, a sua volta bollente. Condiamo i carciofi con olio e sale. Impattiamo la pasta, cospargiamo di nocciola ridotta in polvere e ultimiamo con i carciofi crudi. Se vi piace, aggiungete fiori edibili. Questa è la pasta più locale. Il grano Khorasan, utilizzato, viene coltivato nel raggio di 40 km dal pastificio. Abbiamo rimesso in coltura questa varietà e l'abbiamo dedicata ad una fanciulla di nome Graziella. Era per celebrare il sole che lo fa crescere. È una pasta dal sapore molto equilibrato. Assaggiamo!